Saluto il dottor Claudio Ascani e poi, beh, Mimmo Calopresti, posso dare un bacio? Assolutamente. È una testimonianza, regista, sceneggiatore, è inutile che io lo presenti, tutta Italia lo conosce, per noi è un grande onore averlo qua. Caro professore, ci ha portato il Mimmo Calopresti perché, insomma, è stato da poco operato proprio di protesi all'anca. Sì, sono 40 giorni. 40 giorni, poi vi farò vedere come cammina il signor Calopresti perché davvero è un esempio. Lo sfruttiamo come modello. Esatto, come modello. Momenti anche così di... E proprio perché questo è un messaggio che deve passare soprattutto alle persone che ci stanno seguendo adesso da casa e magari che devono intraprendere un'operazione di protesi all'anca che ormai non deve far più paura, no? Perché ci sono queste nuove tecniche, nuove tecniche, nuove protesi, per cui, insomma, io ricordo che il dottor Claudio Ascani è il, come dire, il direttore della chirurgia protesica avanzata all'ospedale CTO di Roma, un'eccellenza in questo campo e allora è tutto migliorato. Allora, perché? Quali sono queste nuove tecniche? Quando io ero all'inizio della mia carriera, mi ricordo che il paziente che veniva sottoposto a un intervento di artroprotesi dell'anca, veniva messo subito dopo l'intervento in posizione supina, a letto, per un periodo lungo, anche un mese, stava lì, mi ricordo proprio all'inizio di questa... e questo era un po' rappresentativo di quella che era la tipologia dell'intervento, la scelta anche del materiale, ma soprattutto il tipo di intervento che veniva fatto, perché si privilegiavano delle grandi esposizioni. Si diceva che il grande chirurgo doveva fare grandi ferite, grandi cose. Grandi tagli. Grandi tagli. Invece oggi siamo passati esattamente all'opposto, cioè siamo passati con una rivoluzione, da questo punto di vista, con delle tecniche chirurgiche cosiddette mini-invasive, in particolare quella che abbiamo appunto fatto insieme, una cosiddetta chirurgia mini-invasiva attraverso una via mini-invasiva anteriore, che permette di non andare a sacrificare il tessuto muscolare, che è quello che poi ci deve dare la possibilità di poter camminare, camminare rapidamente. E quindi siamo passati completamente all'opposto, in cui il paziente il giorno stesso, o quasi dell'intervento, lo mettiamo in piedi. Vedremo, a poche ore dall'intervento, il dottor Ascani ha fatto un video, un tuo video. Ho rubato il suo video. Esatto. Io sicuramente la vita di un regista, di un attore, è sempre in movimento. Sempre in giro. Come hai fatto? Ci racconti un po' la tua storia? Quando hai detto, non ce la faccio più. No, ma è stata un'operazione lunga, perché il dottore mi ha incontrato, una volta mi ha visto camminare e mi ha detto, guarda che ti devi operare. E io invece sono andato fisioterapistico, poi ho fatto delle lastre, delle cose, tutti mi dicevano che era la schiena, eccetera. Pensando fosse un problema della colonna. Della colonna, no? E invece, per quattro anni forse, sono portato questo dolore sordo all'anca, zoppicavo vistosamente, ma, come dire, cercavo di... Ormai avevi trovato una postura tua, no? Una postura mia, sì, che funzionava. Però è sempre fastidioso, questa vita. Allora, a un certo punto, sono ritornato da Claudio. Sono pronto. Anche perché, mentre stavi girando, e ne parleremo, con un docufilm molto bello, sulla vita di Versace, che è presentato anche poco tempo fa a Torino. A Torino, il festival di Torino. Poche settimane fa, quattro giorni prima, è stato operato. Ecco, e questa è la bella storia. Allora, c'è un momento in cui bisogna dire, basta, interveniamo? Sicuramente la patologia classica in cui noi applichiamo poi una protesi è il problema dell'artrosi. L'artrosi ha delle varie fasi, dal punto di vista della sua, diciamo, evoluzione, dal punto di vista dell'aggravamento. All'inizio è una cosiddetta patologia iniziale della cartilagine che poi peggiora nel tempo se non viene soprattutto aiutata da quelle che sono soluzioni che oggi, per esempio, abbiamo attraverso la cosiddetta medicina rigenerativa. Noi abbiamo già visto che abbiamo oggi la possibilità di intervenire nelle prime fasi dello sviluppo dell'artrosi mediante infiltrazioni oggi con mezzi biologici che prendiamo da noi stessi, come per esempio infiltrazioni col tessuto adiposo che hanno la possibilità di prevenire in una prima fase lo sviluppo negativo dell'artrosi. Ma quando si arriva a un punto più importante di questa evoluzione in negativo siamo nella possibilità di dover andare oggi senza particolare paura a programmare un intervento di protesi. Senza particolare paura? Perché adesso vediamo perché a 40 giorni dall'intervento ti posso chiedere di fare una passeggiata da fare da modella. Vai, 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 vai. Allora, ci alziamo. Vai, vai, tranquillo. Allora, sai vedere come cammina? Ecco, in posizione per far vedere esattamente come. Guarda, io sento proprio... Questo, ecco, cammina senza zoppia. A 40 giorni, dolori, fastidi, niente. Non ho dolori. Ma stai facendo, come dire... Ho fatto un po' di fisioterapia però adesso ho anche smesso perché sono andato a Cape Town in Sudafrica a presentare il film. Il film, quindi non ho avuto più tempo di fare... Cioè, tu sei partito anche per il Sudafrica. Sono andato per Sudafrica. E oltretutto ho fatto una cosa incredibile che dice Capo Buona Speranza, no? Da raggiungere. Allora, ci hanno portato a visitare questo posto. C'è un faro in alto, eccetera. E qua, sono qua, Capo di Buona Speranza. Ecco, stiamo vedendo le... No, vabbè. E allora, improvvisamente, questo signore dice ma io vi aspetto sotto, voi camminate, c'è mezz'oretta di cammino. Io non ce l'ho neanche pensato che avevo male a questo problema. Non arrivi all'anca. All'anca, così. Ho cominciato questo viaggio. Che vi è appena avuto l'intervento. Certo. Ho fatto questo viaggio incredibile che è durato più di un'ora perché c'era un vento pazzesco. Sta camminata e la scoscesa è un problema veramente... No, perché no. Però è incredibile. Io sgrano gli occhi perché magari sentendo tante persone che si sono operate di protesi all'anca non reagiscono come reagisce Mimmo Calopresti proprio perché la tecnologia, grazie a Dio, è andata avanti e sono possibili queste nuove tecniche chirurgiche ma di terapie e abbiamo tanto ancora da parlare di protei. Così parleremo dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate lì, non vi muovete. Torniamo subito. Eccoci, siamo tornati in diretta siamo in compagnia del dottor Claudio Ascani siamo in compagnia anche del regista un orgoglio italiano Mimmo Calopresti e do ancora il benvenuto per chi si fosse sintonizzato in questo momento stiamo parlando di protesi d'anca perché proprio Mimmo è stato operato dal professore qualche settimana fa ecco, diciamo così ha avuto anche la forza di andare a presentare il suo nuovo docufilm a Torino Mimmo. Allora parliamo innanzitutto di protesi e di intervento un po' ce lo stavo accennando perché grazie a queste nuove tecniche chirurgiche grazie a queste tecniche mini invasive si riesce a camminare dopo poche settimane dopo a poche ore dall'intervento a poche ore dall'intervento poche ore proprio un giorno dopo faremo vedere il video che ha fatto il dottore a poche ore dal tuo intervento e allora ci spieghi nel dettaglio qual è l'intervento come si esegue adesso? Il tipo di intervento che facciamo è un intervento cosiddetto con una tecnica mini invasiva ora vediamo questa animazione in cui andiamo a passare nell'intervallo anatomico che c'è tra i muscoli sfruttando un passaggio che prima invece noi utilizzavamo sezionando ovvero tagliando le fibre muscolari e quindi andando a fare ecco queste sono le varie fasi dell'intervento e tutte queste fasi dell'intervento che in qualche modo erano un po' più diciamo tradizionali ma necessitavano di un'esposizione e quindi di un sacrificio dei tessuti molto ampia oggi si riescono a fare tutte attraverso dei mini accessi lui ha un accesso a cosiddetto bikini cosa vuol dire? vuol dire che soprattutto anche nelle donne abbiamo la possibilità di mascherare l'incisione chirurgica lui ha un'incisione nella pieca nella plica cutanea a livello del linguine e questa piccolissima incisione è il punto di passaggio che noi sfruttiamo per poter vediamo adesso nell'animazione passare attraverso queste fibre muscolari che noi spostiamo e arriviamo direttamente a lavorare sull'articolazione preparandola in modo da poter ottenere l'alloggiamento perfetto per quella che sarà la protesi definitiva a proposito di protesi lei ci ha portato anche le nuove protesi perché un tempo ovviamente non erano così esatto oggi è tutta una strumentazione oltre che la protesi stessa che si adatta a questo tipo di intervento e che permette di poter raggiungere ecco vediamo a poche ore dall'intervento Mimmo Calopresti che cammina direttamente dopo l'intervento a poche ore dall'intervento senza utilizzare neanche le stampelle senza utilizzare nulla e quindi inizia subito la sua ripresa funzionale e quindi inizia un percorso che porta poi a una riabilitazione in effetti poi è stata Mimmo ma come ti sei sentito? cioè una volta operato la tua sensazione che hai avuto dolore no raccontati no no probabilmente non mi sono reso conto di quello che succedeva perché vedo adesso questa protesi dico tu hai una protesi del genere del genere dove è passata non lo so l'unica cosa che mi è rimasta diciamo è che suona in aeroporto non me l'aspettavo facendo questo viaggio in Sudafrica avrà un passaporto digitale per quanto riguarda la protesi ed è incredibile perché c'è una ferita molto piccola quindi pensare come sono riusciti a passare con questa cosa qui è dell'incredibile e poi mi sono sentito subito senza il dolore sordo che c'evo dell'anca continuo ah è stato immediato il soldo? ma immediato poi c'ho problemi muscoli dovevo prendere degli antidolorifici però non era pochissime cose per cui come come è il posto operatorio no di un intervento di protesi il posto operatorio oggi per questo tipo di tecnica è molto rapido noi sfruttiamo immediatamente il vantaggio di perdere poco tessuto a livello muscolare quindi non dobbiamo assolutamente aspettare che si realizzi la cicatrizzazione e la consolidazione della protesi perché noi ricordiamo che dobbiamo andare a posizionare lo stelo della protesi all'interno della diciamo componente femorale e l'altra parte sarà la parte invece acetabolare che è quella che deve essere il punto di accoppiamento della protesi ecco utilizzando questa tecnica si riduce tantissimo anche quella che è la perdita ematica cioè la perdita di sangue che con questo intervento avviene e questo ci dà la possibilità immediata di poter partire un tempo mi ricordo se facevano le trasfusioni di sangue o sbaglio sì ora cerchiamo di limitare al massimo preparando il paziente dal punto di vista anche della preparazione preoperatoria utilizziamo anche delle metodologie farmacologiche che ci permettono di poter limitare il consumo e la perdita di sangue e questo è un qualcosa che deve avvenire in maniera estremamente importante e poi anche la fisioterapia in sé è molto più rapida molti pazienti li diciamo li facciamo continuare con un programma di riabilitazione ma noi diciamo al paziente di camminare sostanzialmente deve riprendere e tu l'hai fatta la riabilitazione sì ho fatto un po' di fisioterapia però ho subito cominciato a camminare che era su sua indicazione ma ripeto adesso che avevo tutta l'operazione non mi sono reso conto del lavoro quindi per me è stato naturale non so come ho guidato la macchina subito dopo ho uscito dall'ospedale ho guidato ho accompagnato mia figlia a scuola e per cui la riabilitazione tu continui a farlo oppure no adesso sto facendo dello yoga sotto casa dello yoga che è una riabilitazione che è una riabilitazione funziona bene aiuta aiuta tanto ma c'è un tempo oppure ogni paziente è assì nel senso che c'è un periodo la riabilitazione in particolare dopo questo intervento deve prevedere due aspetti il primo è il recupero dello schema del passo cioè dello schema motorio perché il paziente e lui in particolare ha zoppicato ovvero aveva proprio una condotta nella sua deambulazione nel modo di camminare perché doveva adattarsi per cercare di evitare il dolore e questo è un punto fondamentale l'altro aspetto importante è che inibendo l'attività cioè riducendo il lavoro dell'arto che è quello di camminare anche la muscolatura va incontro a una forma di perdita ed è la cosa che dobbiamo recuperare quindi la riabilitazione deve intervenire su questi due aspetti il recupero dello schema motorio del passo il paziente ha camminato sempre con l'arto si vedono tutti i nostri pazienti che vediamo con problemi di artrosi dell'anca ruotano il piede verso l'esterno fanno tutta una serie di movimenti che servono a limitare il dolore ed è quello che dobbiamo invece ritornare per cui continuerà a camminare il nostro mimo continuerai a camminare allora parliamo della tua ultima fatica questo docufilm sulla vita di Versace di Gianni Versace sì ecco anche per te come è stato girare e portare anche a termine un lavoro del genere verrà a febbraio a fine gennaio quando verrà presentato a fine gennaio in febbraio uscirà in sala ma quando ho lavorato quando lavoro di solito tutti i dolori passano no? e poi magari a fine giornata invece mi accorgo che zoppicavo andavo piano sostanzialmente mentre lavoro di solito ho una specie di nirvana dove finisco per cui le cose funzionano però dopo era un problema però è stato bello perché comunque lavoravo a Reggio Calabria sul lungomare di Reggio Calabria dove c'era questa mamma perché ho ricostruito questa sua infanzia e questa sua giovinezza di Gianni Versace e quindi è stato anche piacevole lavorare e ricostruire questa vita negli anni 60 meravigliosa meravigliosa perché Gianni Versace è stato un genio un genio non solo della moda ma anche culturalmente un rivoluzionario sempre avanti un passo avanti a tutti gli altri sempre a sperimentare a provare cose nuove ebbè un grande stilista italiano grandissimo è un grande orgoglio calabrese esatto è un grande orgoglio internazionale internazionale famoso in tutto il mondo grazie grazie di cuore grazie a dottor Claudio Ascani grazie a te grazie a Mimmo grazie davvero in bocca al lupo in bocca al lupo